E' stato un incontro costruttivo, concreto e si spera risolutivo quello che si è svolto a Roma tra i rappresentanti dell'Avvocatura Teramana e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini. Oltre agli Avvocati e al Tavolo Romano ha preso parte anche una rappresentanza del Tribunale della Procura di Teramo, insieme per affrontare le questioni che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione dell'Avvocatura Teramana, a cui hanno aderito anche le associazioni forensi, Camera Penale, Camera Civile, Aiga, Comitato Pari Opportunità e tutte le rappresentanze istituzionali e politiche del territorio. Davanti al Ministro della Giustizia a tal proposito pendono due interrogazioni parlamentari, una dichiarazione di impegno del Consiglio regionale e la richiesta unanime sempre di impegno a firma di tutti e 47 sindaci della provincia di Teramo. All'Onorevole Ermini la delegazione teramana ha chiesto con forza che venga posta fine alla situazione, purtroppo consolidatasi nel corso degli anni, a causa della quale a Teramo pendono i due terzi dell'arretrato dell'intero distretto. La triste verità è che un cittadino di Teramo deve attendere il triplo del tempo per vedere definita una causa. Per questo serve personale, soprattutto magistrati giudicanti e una riqualificazione urbana degli spazi dedicati alla giustizia. In particolare il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Antonio Lessiani, ha chiesto al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura il motivo per il quale a Teramo non sia stata ancora istituita una sezione penale del Tribunale, Presidio di Legalità del Territorio. Ermini, dopo aver ascoltato con la massima attenzione, ha ufficialmente aperto un fascicolo sulla questione Teramo, assicurato la pubblicazione di nuovi bandi per aumentare il numero di magistrati e ampliare la pianta organica. Soddisfatta la delegazione teramana, che ha invitato il Vice Presidente Ermini a Teramo per un prossimo convegno.